buongiorno amici appassionati bianconeri e non solo di tv 12 l'appuntamento con la rassegna stampa in questo giovedì 16 febbraio che andiamo ad aprire con la lettura come al solito delle prime pagine dei giornali nazionali e non solo ma ci spostiamo anche sull'ansa per vedere l'ultimo primo piano battuto proprio la lanza stessa ne parleremo molto nel corso della rassegna il processo rubiter berlusconi assolto il cavaliere ha detto sono stati 11 anni di fango il leader di forza italia sofferenze danni politici sono incalcolabili carima era tutto invertato nulla nell'autobiografia racconta la prima sera d'arcole ero fuori luogo approfondiremo questa tematica si parla anche poi nella notizia secondaria nel mondo un pacco sospetto dell'ambasciata italiana a lisbona la farnesina scritte aggressivi ma aggressive ma non riconducibile agli anarchici questo anche per quanto riguarda il resto del mondo e non soltanto le cose di casa nostra le cose italiane che andiamo ad approfondire nel corriere della sera dove la notizia principale è proprio relativa al processo rubiter di cui dicevamo assolto berlusconi sentenza dei giudici di milano il fatto non sussiste la filiamanina vittoria a un prezzo troppo alto il leader parla di 11 anni di fango e forza italia chiede una commissione d'inchiesta fratelli d'italia invece che frena sulla questione c'è poi anche la fotonotizia che andiamo a leggere con scozia la scelta di sargent lascio la politica è brutale questo l'annuncio della prima ministra che inneggiava tra l'altro fino a poco tempo fa alla indipendenza della scozia ci spostiamo poi sulla repubblica sulla richiesta diciamo di berlusconi assolto per il rubiter adesso dice ora ipm alla sbarra il cavaliere esulta per l'asseltenza il suo partito chiede una commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura ma fratelli d'italia frena le priorità sulla giustizia sono altre meloni adesso teme un aumento delle tensioni con forza italia che fa subito sponda con la lega e impone al senato il decreto sui balneari nonostante i dubbi del governo questo per quanto riguarda la situazione politica poi c'è giordano che rinuncia a dirigere il salone del libro di torino no alle lottizzazioni c'è poi spazio anche per la guerra in ucraina panetta potin sarà costretto a scegliere tra sconfitta o negoziato questo si dice mentre priolo i sospetti usa sulla vendetta ai ciprioti dietro ci sono i russi si torna a parlare di sanremo con ovviamente questa coppia che già fatto discutere molto con il loro bacio tra rosa chemical e fedez rosa chemical il mio bacio appunto contestato da quelli che vivono fuori dalla realtà questo quanto ha detto il cantautore protagonista sanremo sicuramente del gesto che ha fatto discutere ma anche della sua ottima esibizione canora il giornale berlusconi assolto sotto il fango niente questa la citazione del giornale caso rubi il cavaliere innocente dopo 11 anni di persecuzione giudiziaria il fatto non sussiste l'ex premier fortunato ad avere toghe imparziale gli alleati si dicono felici per tutti marina berlusconi dice vittoria per il mio papà ma a un prezzo decisamente troppo alto questo per quanto riguarda la notizia politica del giorno poi è morta 88 82 anni addio all'icona rachel welsh il bikini più sexy di hollywood questo per quanto riguarda la fotonotizia del giornale ci spostiamo poi sulla verità con il titolo principale che riguarda la direttiva sulle auto votata all'euro parlamento chi guadagna col massacro green lo stop alle vetture con motore termico entro il 2035 non premerà solo i cinesi pieni di materie prime indispensabile per l'elettrico godono le grandi case che prevedono miliardi di utili in più per l'attuale indotto italiano sarà un disastro ma soprattutto ci dice la verità lo sarà per le famiglie poi la foto che è esemplificativa eloquente di un berlusconi sorridente rilassato quasi dopo 13 anni finisce il bunga bunga dei pm che non doveva neppure iniziare questa l'analisi di maurizio belpietro nella fotonotizia che riguarda proprio la soluzione di silvio berlusconi eravamo sulla verità ci spostiamo invece sull'identità che fa il suo classico e mai banale gioco di parole che giustizia del cav ovviamente con il cav di cavaliere che viene usato ad arte berlusconi assolto dopo 11 anni per il rubiterra il fatto non sussiste e ora si chiede basta con i processi politici del direttore nell'editoriale tommaso cerno che parla del sipario sulla togecrazia questa la richiesta di tommaso cerno dopo che è stato detto che il fatto non sussiste in taglio alto la bofera sul caso cospito nordio difende donzelli ma questa è l'ultima volta e poi c'è proprio la intervista a carima el marug io sono carima non rubi che morì 13 anni fa ecco la vera storia che mi ha cambiata un'intervista sicuramente interessante quella che troviamo sull'identità ci spostiamo poi sul foglio che parla di come il correttismo sia morto che meraviglia la soluzione del cav e delle sue amiche nel rubiterra perché il fatto non sussiste e viva la nostra battaglia contro una pessima inchiesta e il politicamente corretto dei mutandoni alle ballerine questo appunto per quanto riguarda la soluzione sempre di berlusconi si fa anche satira con la vignetta ragazze forza a bordo che mi hanno ridato la patente c'è anche un riferimento calcistico a quanto si era detto qualche tempo fa ai giocatori del del monza insomma si fa come al solito satira politica a tutto tondo anche sul foglio libero che parla degli undici anni di fango appunto sull'ex premier berlusconi assolto ipm alla sbarra nessuna condanna per il rubiterra il fatto non sussiste e forza italia ora vuole una commissione di inchiesta sull'uso politico della giustizia questa è un po' la richiesta che viene forzata dal mondo politico stesso per quanto riguarda questi questi tipi di processo si parla poi nella foto notizia di bruno vespa che non ha bisogno di presentazioni e di una nuova striscia sul rai 1 vespa vengo dopo il tg questo è l'appuntamento appunto con la nuova striscia quindi non soltanto il classico porta a porta di tarda serata ma è un bruno vespa che rilancia e sia proprio di una striscia ovviamente molto importante del palinsesto di rai 1 non gli serve in bocca al lupo ma ci può stare dieci anni di rubi berlusconi assolto al processo terri il tribunale sferza la procura non poteva contestare la corruzione poi anche si torna sul caso cospito alla camera nordio si ripete e salva donzelli foto notizia che riguarda ancora il dramma dell'immigrazione clandestina a casa loro è il titolo eloquente più di 70 morti in un naufragio a largo della libia altri 70 sulla rotta spagnola è sempre più un viaggio senza speranza quello dei migranti che cercano di raggiungere l'europa intanto in italia il primo sì della camera al decreto che ostacola i salvataggi da parte delle ong chiaro che la foto come spesso capita vale più di mille parole nella nella sua realtà nella sua crudezza per quanto riguarda questa problematica il gazzettino parla sempre di berlusconi un'altra assoluzione del processo rubiterri il leader di forza italia e tutti gli imputati prosciolti il fatto semplicemente non sussiste la replica del cavaliere fango sulla mia persona per 11 anni in sudan zennaro ha visto l'inferno questo per quanto riguarda la foto notizia scelta dal dal gazzettino nella sua edizione odierna ci spostiamo poi anche su il fatto quotidiano con c'è anche qui il richiamo inevitabilmente al processo rubitel criminale in festa pagare per farla franca non è reato assolto berlusconi con 28 testimoni prezzolati prove inutilizzabili sono provati diversamente di 11 milioni alle oggettine che però per il tribunale ma non per altri cinque giudici andavano indagate e non sentite come testimoni quindi la corruzione in atti giudiziari non sussiste evidentemente chiaro la diversa presa di posizione del fatto quotidiano che poi parla in in taglio alto anche di altre cose con pinoso d'agostino così l'ex socio di baborenzi innaffia tutti parla anche del rio del partito democratico ci servono idee forti e pacifista non è putiniano questo per quanto riguarda la prima pagina del fatto quotidiano ancora proseguiamo il nostro cammino nelle prime pagine dei quotidiani nazionali andando sulla stampa berlusconi si apre con la dichiarazione dell'ex premier 11 anni di fango la sentenza del tribunale di milano testimonianze delle oggettine inutilizzabili il fatto non sussiste berlusconi assolto per il rubiter forza italia ora una commissione d'inchiesta sui giudici l'olobrigida ribadisce che però al momento non è una priorità si parla poi anche di economia che approfondiremo nel sole 24 ore urso benzina e diesel il piano è da riscrivere anche il reddito e l'assegno unico con bruxelles che ha bocciato l'italia si occupa la stampa invece del dell'anno di guerra purtroppo un anno non da festeggiare per il conflitto tra russia e ucraina in trincea aspettando gli orchi questo è l'approfondimento di francesca mannocchi con la nato che parla di più armi all'ucraina reportage da liman questo ovviamente una tematica che purtroppo sempre molto molto calda della tensione del conflitto tra russia e ucraina il sole 24 ore che parla invece come al solito nel mondo del lavoro nel mondo dell'economia smart working ecco le nuove regole nel mille proroghe 355 rinvie di scadenze questo si legge nel sole 24 ore sei dietro fronte del governo dalle plusvalenze del calcio agli incarichi ai pensionati delle pubbliche amministrazioni non riesce il blitz per cancellare il rinvio sulle gare dei balneari invece questo è il punto sull'economia e poi l'emergenza energetica è nel in slovacchia una centrale nucleare per ridurre il ricorso al gas questo si legge anche nella fotono notizia del sole 24 ore come di consueto chiude la nostra il nostro giro per le prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo invece ad analizzare quello che riguarda la situazione del della nostra regione partendo dal messaggero veneto edizione di di udine che andiamo a sfogliare dalla sua prima pagina in cui si parla di emergenza sanità e covid i dati raccolti dal gimbe con le risposte della regione tra i punti di forza i test la qualità delle cure e l'organizzazione dei posti letto questo si legge su sul messaggero veneto dell'edizione di udine che purtroppo nella fotonotizia parla dell'incidente avvenuto ieri mattina nei pressi della dacia arena vittima una ragazza udinese di 49 anni investita e uccisa mentre sta facendo jogging qui l'immagine dei soccorsi ovviamente purtroppo vani per la runner che non ce l'ha fatta in taglio alto l'ultimo consiglio prima delle elezioni super bonus deciso l'acquisto dei crediti cantina di casarsa patto con i veneti una nuova società per la distribuzione questo per quanto riguarda il taglio alto c'è spazio anche a politica e giustizia di spalla caso rubiter assoluzione per berlusconi e per gli altri imputati questo per quanto riguarda anche la notizia un po più calda del giorno che abbiamo che abbiamo letto interrotta la seduta l'euro deputata friulana lizzi firma l'irruzione degli attivisti curdi all'euro parlamento sicuramente un momento di particolare tensione c'è poi un approfondimento sulla vita digitale di come lo smartphone influisca sul cervello è sicuramente una cosa che può essere interessante altre notizie poi che arrivano dalle cronache morto monsignor santa rossa storico cappellano militare questa notizia della scomparsa del monsignore il carico del tir ulta un cavalca via chiuso il tratto pozzuolo pavia poi abbiamo ancora scavalca il cancello e le ruba il portafoglio puntava all'incasso mentre c'è lo sport per quanto riguarda se n'è andato lo sport comunque c'era il bronzo vinto da lisa vittozzi vediamo se riusciamo a recuperarlo per leggerlo sulla prima pagina del messaggero di udine con pagina che non riusciamo a recuperare insomma va bene così la approfondiremo la situazione nel corso della nostra rassegna e all'interno delle delle pagine sportive quando ci sarà l'approfondimento dedicato invece sulla pagina di udine purtroppo torna la notizia della tragedia investita mentre fa jogging muore a 49 anni erica niemitz è stata travolta da un'autocondotta da un militare residente in provincia di pordenone lascia un figlio e il marito l'investitore che viaggiava in direzione rizzi si è subito fermato l'analisi velocità pericolosa sui viali cittadini lo scorso anno 13 mila sanzioni ed evidentemente non sempre bastano perché la tragedia è sempre purtroppo dietro l'angolo qui le foto di erica con il dolore del padre flavio niemitz che ricorda la figlia era uscita a fare una camminata l'amica monica ha detto donna di grande carattere che sapeva essere dolce tornano le parole del padre come se ci avessero strappato il cuore lei viveva per la famiglia amava il suo lavoro le piaceva correre stare all'aperto anche molto brava in cucina abbiamo condiviso parecchi concerti di vasco e le sue torte sono a pezzi chiaramente non potrebbe essere altrimenti per il papà di di erica a cui ieri è stata strappata la figlia da un un incidente stradale che andiamo ad approfondire nel servizio che abbiamo dedicato alla notizia con cui ai noi ieri siamo svegliati in regione quindi l'approfondimento a cura di monica nardini si chiamava erica niemit si aveva 49 anni la donna morta nell'incidente stradale verificato si stamane a udine all'incrocio tra via candonio e viale candolini nella zona dello stadio poco prima delle otto mentre stava facendo una corsa attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali è stata colpita da un'auto condotta da un 53enne che viaggiava in direzione udine centro da chiarire la dinamica del sinistro l'incidente è stato rilevato dalla questura di udine non è escluso che possa aver inciso il riverbero del sole in quel momento ancora basso sulla linea dell'orizzonte la donna nell'impatto è stata sbalzata diversi metri di distanza a far scattare le operazioni di soccorso è stato lo stesso automobilista un militare residente nella destra tagliamento che ha immediatamente chiamato i sanitari ma una volta sul posto le equipe mediche non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna su logo dell'incidente tra le forze dell'ordine anche i carabinieri del comando provinciale di udine e la polizia locale per le operazioni di deviazione del traffico questo quanto accaduto ieri messaggio veneto edizione di pordenone abbiamo sostanzialmente una impaginazione simile cambiano alcune notizie qui si dà maggior risalto all'addio a monsignor santarossa di cui abbiamo parlato lo storico cappellano militare e a porcia si parla degli esuberi electrolux in aprile parte il piano delle uscite volontarie c'è stato anche un arresto in flagranza ad aviano per l'incendio a piancavallo a zanodecimo ascensore quasto da settembre ci sono disabili segregati in casa assolutamente una notizia brutta da approfondire e qui ne approfittiamo per dire ma l'avevamo già detto l'ennesima grande impresa di Elisa Vittozzi a cui vanno tutti i nostri applausi per il bronzo vinto ad Oberhof per quanto riguarda il mondiale ancora andiamo in regione con il piccolo di trieste per analizzare la prima pagina che parla della procura di trieste bloccata dal reato di clandestinità migliaia di fascicoli aperti e zero condanne eseguite de nicolo uno spreco di risorse clamoroso poi si parla dell'ultima seduta in taglio alto anche le notizie dal mondo con la nato che rassicura l'ucraina in arrivo più armi e munizioni la cronaca pala chiarbola chiuso per intonaci pericolanti e scala non a norma poi il vertice in prefettura per la sicurezza in porto in arrivo misure più rigide dopo quanto è successo nell'ultimo periodo e poi la gestione della pandemia la fondazione gimbe che promuove la regione come abbiamo visto anche nella giornata di ieri e poi anche trieste trasporti che annuncia più corse dei bus in orario notturno questo per quanto riguarda trieste però continuiamo anche con il piccolo di gorizia per vedere un po gli approfondimenti con la fotonotizia che rimane inalterata mentre cambiano i parcheggi dell'ospedale discorario fino a quattro ore posti riservati ai dipendenti più stalli per i fragili nuove regole dal primo marzo questo per quanto riguarda la situazione del goriziano con il piccolo di gorizia che fa il punto su questa su quanto succede proprio nella provincia del goriziano chiudiamo l'argomento cronaca in regione perché l'abbiamo visto un po su tutti i giornali parlare di questo incontro di questo di questa premiazione della regione del fiore di venezia giulia da parte del gimbe a cui ha partecipato anche il presidente fedriga perché è stato davvero un ottimo risultato per i numeri della pandemia per i numeri raccolti dal servizio sanitario regionale di cui la regione può freggiarsi. Nesce benissimo rispetto al concetto di eccesso di mortalità cioè in questi anni quanti sono stati decessi in più rispetto a quelli attesi molti di meno di quello che sembrerebbe dal tasso grezzo di mortalità perché perché di fatto noi comunque abbiamo verificato che la capacità del sistema sanitario regionale di assistere pazienti con altre patologie ha ovviamente avuto un impatto positivo su quello che è il dato della della mortalità totale. Il fiore di venezia giulia è stata in termini di risposta penso alla parte di screening tra le migliori d'Italia ed anche il dato che ha visto per esempio una mortalità grezza più alta però se a questo invece si analizza rispetto alla differenziale tra la mortalità in epoca pre-covid e la mortalità in covid invece che siamo invece una di quelle regioni che sotto la media nazionale quindi vuol dire che oggettivamente il fiore di venezia giulia è una regione con un numero di età media più alta e quindi questo ha comportato a maggiore mortalità ma che però se si analizza il dato rispetto al differenziale risulta invece anche qui che abbiamo ottenuto bene. Dati importanti, dati che non hanno nascosto niente, che hanno raccontato la complessità di una storia difficile e che sicuramente si è basata anche sulla riforma del 19 perché se noi non avessimo avuto tre punti di governo il sistema non avrebbe retto quindi io di questo sono particolarmente contento quindi noi restituiamo una fotografia di verità è una verità che sui punti critici ci deve aiutare a correggere con determinate decisioni dall'altro credo si sia dimostrato che la regione ha fatto un lavoro importante ed è riuscita a portare fuori i propri cittadini da una situazione che non aveva precedenti. Davvero, un eccellente risultato. Chiusa la parentesi relativa alla cronaca nazionale e regionale siamo pronti a tuffarci nello sport, sport che ha davvero tante tematiche e molte legate al calcio partiamo come al solito dalla Gazzetta, Milan colpo da dieci, si parla chiaramente di Brahim Diaz e il goal champions che vale il riscatto, i rossoneri lo vogliono tenere, insomma riscatto in tutti i sensi, Brahim spinge per restare, presto il vertice con il Real cardinale e fa i complimenti a Pioli per la vittoria contro il Tottenham in un momento sicuramente difficile del Milan, esclusivo Raspadori, Napoli, sole mio, spalletti più rigoroso dei miei professori universitari, dicono che ho la cazzimma, champions non ci poniamo limiti, questi alcuni stralci dell'intervista dell'ex Sassuolo ora al Napoli, Juventus Allegri con Nantes, punto alla Coppa e Re Emery parla ancora di una squadra che può vincerla quindi insomma se lo dice lui la Juve può star tranquilla. Di Bala, Roma non so se il resto è Murigno che ribadisce trattiamo con Paolo Di Bala che insomma lancia questo allarme, poi il giro, la grande bellezza, a Roma sarà un finale show, Cairo, editorialista anche della Gazzetta, ha parlato di qualcosa di magico, Lukaku sorpassato, questo è l'Inter e i problemi del bomber, con l'Udinese sì, quindi sarà in campo contro la squadra bianconera, col Porto no, quando conta gioca Dzeko, questo insomma fa capire anche come l'Inter sia più concentrata sull'ottavo di finale contro il Porto che sulla partita contro l'Udinese di sabato ma chiaramente sarà una partita non difficile. Di più per la squadra di Sottil, la Champions passa da qui, playoff di Europa League stasera a Juventus alle ore 21, il diktat di Allegri voglio la Coppa per restare tra le grandi, diciamo che, visto che la penalizzazione è reso difficile l'arrivo in Champions in campionato per la Juventus, Allegri vuole arrivarci vincendo l'Europa League, non sarebbe male, Di Maria e Vlaovic guidano l'attacco, Quadrate e Bonucci vanno in panchina, Max Allegri che dice sono forti, serve attenzione. Poi c'è il Chelsea, un altro schiaffo, battuto 1-0 in Champions dal Dortmund, gol di Ade Iemi, particolarmente bello, perché si parla di schiaffo? Perché il Chelsea ha speso milioni su milioni comprando Enzo Fernandez, Joao Felix, non solo, Dubrik, però, Mutrik, ma è una squadra che non ingrana semplicemente quando i soldi non bastano. Mu e Dybala mettono fredda ai Fridkin, bisogna blindare la gioia. Lazio per Ciro solo un tempo contro il Cluj, tra l'altro Cluj di Simone Scuffet, mentre i Viola andranno a Braga. Poi c'è il Napoli che fa muro su Quaraschelia, lo vogliono tutti. Il club è già al lavoro per un contratto con lo stipendio raddoppiato, la gente però si è scoperto, ha detto ha moltissime offerte, ma qui sta bene e poi ha specificato come non giocherà con nessun'altra maglia in Italia. Questo a far capire che le maggiori offerte arrivano dall'Europa, sicuramente, per il talento georgiano. C'è poi Tutto Sport, che parte con un popolo in cerca di rivincita. Stasera Juvenon, pienone allo stadium, Europa League, andata degli spareggi, si va verso il tutto esaurito. Allegri che parla di un grande segnale dai tifosi, riprendiamoci la Champions, Next Gen in finale di Coppa Italia. Testa alla Cremonese, poi il derby, Yuri Cialtoro, cancelliamo la Juve, questo KO di ottobre da cancellare. Poi è anche un'intervista esclusiva con il capitano del Monza, Pessina. Io e il Monza che bella storia. E poi c'è la notizia, Gotti esonerato, spezia per ora a Lorieri, che è il suo vice, sarà lui, l'allenatore ad interim, ma sullo sfondo resta semplici, che dovrebbe essere il sostituto di Gotti, che quindi settimana prossima avrebbe dovuto venire da ex a Udine, così non sarà. Si parla di altri sport, con Disastro Milano, Brescia in semifinale per la Coppa Italia che si sta disputando a Torino. E poi i mondiali, il gigante femminile, Brignone e Bassino sfidano la Schifrin per l'assalto al terzo. Oro, questo per quanto riguarda le prime pagine sportive nazionali. Per chiudere questo argomento e poi andare sulla questione Udinese, non solo, andiamo a sentire le parole di Allegri, perché abbiamo parlato in lungo e in largo di questo appuntamento molto importante. Juvenance stasera ha alcuni stragi proprio della conferenza di Max Allegri. Innanzitutto domani inizia l'Europa League e quindi inizia il percorso europeo. Purtroppo siamo stati eliminati in Champions, però per noi l'Europa League ora diventa un obiettivo importante perché potrebbe essere una porta di accesso alla prossima Champions League. Quindi abbiamo questo spareggio con Nantes andato e ritorno per poi cercare di approdare le ottave di finale per cercare di arrivare in fondo. Ma non ho ancora deciso, stamani abbiamo fatto allenamento, dovevo valutare più o meno quelli che dovevano recuperare un po' di energie. Comunque stiamo giocando una parola ogni tre giorni e quindi c'è bisogno di tutti, dovrò valutare tra la partita e la partita di domani e quella di domenica a Spezia, chi fa giocare domani e chi fa giocare a Spezia. Non è che la competizione dell'Europa League incide sulle scelte del mio futuro. Credo che in questo momento qui siamo concentrati molto su quello che è il presente, come deve essere sempre, di partita in partita. Fare un passettino alla volta. Questo non dobbiamo perdere assolutamente perché deve essere la nostra forza qui alla fine, sia in campionato, che in Europa League, che in Coppa Italia. Bisogna lavorare, bisogna migliorare alcune cose, perché comunque la gestione della palla, come è successo domenica con la Fiorentina, nel secondo tempo va fatta meglio, soprattutto nella prima parte del secondo tempo e poi cercare di recuperare i più punti possibili in campionato. Queste le parole di Max Allegri, mentre a proposito di Bianconero, Udinese, ha parlato il doppio ex Fabrizio Larini, ex DS dell'Udinese. L'Inter sta bene, non si fila dell'Inter, non inganni il pareggio con la Samp, serve la migliore Udinese. Tra milanesi e friulani a volte ho visto lo stesso difetto, l'eccesso di sicurezza, quindi magari fare la differenza sarà il sapersi mettere in dubbio. I precedenti, e si parla della sfida numero 100 in Serie A tra Inter e Udinese, certo non è una gran notizia il fatto che l'Inter sia in vantaggio, questa è l'analisi di Guido Comirato, c'è spazio anche già per il mercato estivo, perché si parla già del dopo Beto, c'è stata la corte dell'Everton nell'ultimo giorno di mercato, in estate potrebbe arrivare comunque l'offerta giusta e l'Udinese studia come alternativa un balanzolà dello Spezia, che tra l'altro era stato rivitalizzato da Gotti e che adesso è stato esonerato, come viene richiamato i ragionamenti sulla punta dello Spezia, che intanto esonera Gotti, questa è stata anche una delle notizie della serata, è arrivata l'ufficialità anche dell'esonero di Davide Nicola, due ex allenatori bianconeri che hanno avuto il ben servito, come detto semplici, dovrebbe arrivare alla Spezia, e Paolo Sousa invece lì già ufficiale. Per la Salernitana, la guerra argentina di Redivo sbarca a Cividale, Michalic ha detto pronto per lui un progetto triennale, l'esterno arrivato da Casale Monferrato dice sono venuto a dare una mano, amo il calcio e mi piace anche l'Inter, questa è la sua confessione, insomma ci dispiace che sabato si spera di dargli un dispiacere al nuovo acquisto della web gesteco Cividale. Torniamo sul messaggero Veneto, per parlare di Udinese, sarà la partita di Pereira, ecco qua l'analisi del messaggero, perché? Perché all'Inter piace, Pereira non è una novità, l'argentino capitano è vero leader, come conferma la voglia di confortarsi con i tifosi sotto la curva dopo i fischi col Sassuolo, ma anche uomo mercato perché a parametro zero piace e non poco all'Inter c'è anche l'arbitro Dionisi a San Siro, con lui nel passato ci sono due 3 a 2, uno a favore contro il Sassuolo, uno contro quello di quest'anno contro il Monza in Coppa Italia, quindi vedremo come andrà la terza. Buone notizie per Inzaghi, recuperato Di Marco, elemento molto importante per l'Inter. Allenamento, possesso palla e partitelle, Nestorowski può esserci, questa è sicuramente una buona notizia perché ricordiamo che Nestorowski era andato in panchina con un recupero semilampo nella partita contro l'ultima giocata, col Sassuolo, mentre adesso potrebbe anche essere utilizzato. C'è poi l'analisi di Pepe Bergomi, l'Inter potrebbe essere distratta dalla Champions ma ora subisce meno. Si parla del calo, dopo averli visti battere l'Inter dell'andata pensavo che i bianconeri potessero stare più in alto, questa è la sua confessione, nel calcio ci sono giocatori bravi e quelli decisivi, De Lofeu è uno decisivo e Ludinese senza di lui ha perso un modo di attaccare l'area avversaria, su Toven dico di aspettare perché il francese ha grande qualità ma bisogna vedere l'intensità agonistica e poi le scelte contro Ludinese mi aspetto un Inter con Brozovic titolare e poi bisogna capire se a Lukaku saranno dati ancora dei minuti, da quanto abbiamo capito probabilmente sì. C'è poi lo Spezia che ha cacciato Gotti, è pronto di nuovo Leonardo Semplici, è la foto anche abbastanza rappresentativa di quello che può essere l'umore e lo stato d'animo di Luca Gotti a cui è stata fatale, il 2-2 in rimonta subito contro Lempoli e poi tra l'altro c'è stata anche la vittoria del Verona che ha messo davvero molta pressione allo stesso Spezia. La Samp cerca di evitare la penalizzazione, c'è stato un accordo sugli stipendi con i giocatori che hanno rinunciato al mese di dicembre per evitare il meno 2 in classifica che sarebbe stato davvero dannoso. Brasile è un CT provvisorio sognando Ancelotti, si parla anche di questo nella situazione degli altri sport, poi fatica del giovedì sera il ballo, 4 della Serie A, Juve-Roma oggi in Europa League con Nantes e Salisburgo. Lazio e Fiorentina in conference, se la vedono con Cluj e Braga, come vi dicevo ovviamente abbiamo molta curiosità da tifosi dell'Udinese di vedere Simone Scuffet all'opera, perché? Perché sarà uno Scuffet contro Provedel stasera all'Olimpico, una sfida nel segno dell'Udinese primavera? Forse, ci mettiamo un residuo punto di domanda, perché in Coppa qualche volta ha giocato Luis Maximiano, ma vedremo cosa sceglierà Sarri, che visto quanto conta la partita probabilmente si affiderà al portiere di maggiore esperienza, vale a dire Provedel. Lisa è d'oro anche col bronzo, questo è il titolo del messaggio veneto, Vittozzi show nell'individuale dopo l'influenza, sbaglia solo l'ultimo tiro al poligono, pensate, ma poi strappa il terzo posto. Errore, reazione da star, c'è tutto nella gara di Lisa Vittozzi, davvero che sta vivendo qualcosa di meraviglioso in questa stagione e siamo contenti. In Germania c'è la famiglia a incitare la carabiniera e a Sappada si fa festa e non potrebbe essere altrimenti. Chiudiamo con il basket, partendo prima dalla Gesteco, per poi chiudere con la più Old Wild West Udine, perché c'è stata la presentazione di Lucio Redivo, sono arrivato qui per aiutare a vincere ancora, sono state le prime parole del talento argentino. Abbiamo iniziato con le Eagles prima della più, proprio perché prima di chiudere la nostra rassegna stampa volevamo proporvi quella che è la clip che abbiamo realizzato, abbiamo usato insieme ieri sera a Baschettiamo, del nuovo arrivo che promette davvero bene, ha avuto anche un'esperienza se n'è uno con Brindisi e che quindi sa il fatto suo. Vediamo. Alla fine del secondo quarto, Redivo si alza ancora da tre, ancora Redivo. Si gioca su Lucio Redivo, deve accendersi per Casale Molferrato, ci prova la posizione difficilissima, bastava chiamarlo, ne mette due. Molta risposta, Lucio Redivo dalla distanza ancora una volta, altra tripla. Corre Monferrato con Redivo che va al ferro, il segno di mano sinistra, è chiamato. Eccolo qua, il facundo campazzo della Lega 2, eccolo qua, va fino in fondo e la scodella con la mano sinistra, è un gran canestro. Dalla distanza, Lucio Redivo, mette la bomba che poi mette il sugello sulla vittoria di Casale Molferrato. Lucio Redivo ancora, si riprova, diventano cinque di fila, cinque di fila per Lucio Redivo. Redivo che dovrebbe essere già protagonista a Ferrara, domenica, domenica sarà una puntata molto ricca di studio e sport che vedremo con tutte e due le squadre in campo alle 17, le due friulane, appunto Ferrara-Civitale, poi ci sarà Udine a Carnera che andrà per il riscatto contro Ravenna, una partita da non fallire, però in casa più si parla di basket mercato, sempre quello è l'argomento, con Casarin e un pivot la più si sistemerebbe. L'under di Verona, di proprietà Reier, figlio del presidente della Reier Venezia, è la chiave di tutto, ma la trattativa con l'incubo delle finali 2022 è in salita. Casarin era stato il pezzo forte, insomma, di quella cavalcata di Verona verso la 1, proprio sul campo di Udine e non solo, però è difficile che si riesca ad arrivare a un colpo del genere perché il ragazzo in A1 con Coach Ramagli sta anche giocando, il centro invece quando si parla di pivot si pensa a un americano, da una mossa che potrebbe arrivare più in là perché per quanto riguarda i senior ricordiamo che la Piu ha un solo slot rimasto e deve sicuramente sfruttarlo al meglio. Le ultimissime dal parquet, Brisco è in alto mare, questa è la brutta notizia che colpisce la Piu con l'americano che dovrebbe saltare anche la prossima, così come Sherrill, stanno lavorando entrambi a parte. Il primo, Sherrill, si sottoporrà a 9 accertamenti venerdì, ma esclusa la sua presenza contro Ravenna. Per il secondo si naviga a vista contro i romagnoli, però non ci sarà nemmeno Cusin, fermo per il reagutizzarsi della tendinite, mentre, un gesto giusto finalmente, il giudice sportivo FIP ha inflitto a Pistoia un'ammenda di 1000 euro per le offese del pubblico nei confronti di Alessandro Gentile che in tutti i palazzetti in cui va trova accoglienza mai troppo piacevole e non è mai una bella cosa. Siamo arrivati in chiusura della nostra rassegna stampa insieme che è stata come di consueto molto ricca, però prima vi riepilogo la programmazione di oggi che parte come al solito con il Tg delle ore 12, poi in comune alle 13.30, pomeriggio calcio alle 15, vi aspetto, tra l'altro daremo aggiornamenti anche della primavera che oggi gioca, chiude la giornata alle ore 15 a Gemona contro la Juve, alle 16 ancora Tg, alle 17 il nostro nuovo format Informa per restare appunto Informa, alle 19 il Tg Sportivo a seguire quello cronaca e alle 21.15 l'appuntamento con la prima serata con l'agenda di Terasso, Friuli Venezia Giulia alla prova del voto fotocopia, questa l'analisi, ma prima non dimenticate, segnate alle ore 20.30 lo speciale a cura di Giorgia Bortolossi, la regione in vetrina alla BIT di Milano, questa ricca programmazione di TV12 con la serata che sarà davvero tutta da seguire. È tutto anche per la nostra rassegna stampa quotidiana in questo giovedì 16 febbraio, io vi auguro ancora una buona giornata da proseguire sempre in nostra compagnia. Amici di TV12, ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trevi Meteo, contesto anticiclonico per la giornata di giovedì sul Friuli Venezia Giulia, sole infatti protagonista eccetto un po' di nebbia o foschia nelle ore più fredde del giorno sulle zone pianeggianti. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone, sole come vedete protagonista, cieli sereni o poco velati, da segnalare solo un po' di foschia nelle ore più fredde della giornata, minime intorno allo zero, temperature massime fino ai 12 gradi. In dettaglio diamo uno sguardo anche alla situazione attesa sulle province di Gorizia e Trieste, anche qui localmente un po' di foschia nelle ore più fredde del giorno, temperature minime intorno ai 3 gradi su Gorizia, 6 gradi su Trieste, clima piacevole nelle ore centrali della giornata con valori tra i 12 e i 14 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie a tutti.